Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Captain Tsubasa Dream Team. Oggi ci dedichiamo alla Challenge Road. Ragazzi, vi lascio al video e alla sigla. Bene ragazzi, siamo nell'intervallo della trettesima Challenge Road. Senza abilità di squadre, vedete, c'è scritto, sono inattive. Abbiamo dovuto utilizzare tre brasiliani, di cui Santana, ok, è accettabile. Poi Natureza ci ha livello 1 SR e R, livello R per grande invece come terzino. Adesso facciamo due semplici cambi ragazzi, inseriamo, inseriamo. Slider lo devo lasciare fuori perché non l'ho portato Olli per questa partita, quindi non si può utilizzare, lo lascio fuori. Inserisco Ryushii Zaki in difesa al posto di grande, che è inguardabile. E poi tolgo Natureza SR per inserire Taro Misaki. E questo è il cambio di formazione che faccio prima di cominciare ragazzi. L'ultimo secondo tempo di questa Challenge Road, perché ripeto, siamo nella Challenge Road numero 20. Come avete visto dal video, 1-0 col gol di Napoleon. Siamo per noi, palla all'oro. Matsuyama, cattura la palla. Power full power attivato per gli avversari. Il power shot. Ok, proviamo a contrastarli con Napoleon ragazzi, ci proviamo. Un contrasto travolgente, ok. Ci si prova raga. Va bene, a vuoto, con 1-2 ci passano. Eh ragazzi, questa in una partita normale l'avrei fermato. Non è una partita normale ragazzi. Si chiama Challenge Road, ed è l'ultima. Allora, sempre Matsuyama. Con Santana è un contrasto normale perché non c'è nato i tecniche speciali. Con Misugi il contrasto del gioco di squadra. E con Rivali il contrasto della difesa sottomarina. Cerchiamo di difenderci raga, vediamo un po' come va. Controllo di sviluppo della palla. Santana ha fatto fuori. Ancora controllo di sviluppo della palla. Misugi fatto fuori ragazzi. Sono strappompati questi giocatori. Anche Rivali fatto fuori. Niente, è praticamente infermabile questo giocatore. Palla in aria. Ok, con Isshizaki andiamo a fare un bel blocco di faccia. Per tentare di recuperare questo pallone. Dobbiamo mantenere il colpo di testa. E Isshizaki la blocca. Dobbiamo mantenere il vantaggio raga. Dobbiamo portare al termine questa partita. E concludere questa Challenge Road. Ho sbagliato. Vabbè. Andiamo un pochettino. Andiamo con un tiro dai. Vediamo se riusciamo a spezzarlo con un tiro. Niente da fare. Palla con l'oro. Qui siamo scoperti. Offriamo il fianco all'avversario. Tiro boomerang S16. Dai Espadas, salvaci tu. Contiamo su di te Espadas. Forza Espadas. Salvaci. Pugno del Contor. Vediamo se la para. Vediamo se la para. Grande Contor. Grandissimo. Va bene. Palla Rivaul. Rivaul. Passiamo. Va bene. La palla passa. Palla per Napoléon. Non riusciamo a tirare prima. Ma adesso ci tocca farlo. Questo tiro dello scoppio del cannone. Sappiamo che sarà l'ultimo tiro di Napoléon per la partita. Ma preferisco non perdere palla ragazzi. Deve passare questo tempo. Deve passare. Intercetta. Naturalmente vola per aria. Adesso ragazzi. Ripeto. Questo in una partita normale sarebbe gol. La partita normale. Doppio pugno del super portiere S32 per Benji. Benji grandissimo portiere in questa partita. Super pompato. La respinge. Palla. Jito. La palla è per loro. Allora ok. Possiamo attivare il power shot nel frattempo. Dopo questa animazione. Ok. Power shot attivato ragazzi. Va bene. Dai Shester prendila in qualche modo. Shester non riesce a prenderla. Vediamo il lancio per Yigua. Questo non era. Sì. Ha il tiro regio S16. Noi andiamo col blocco di super riflessi però. Pierre. Dai Pierre. Devi prenderla. Vediamo come va. Ah però la devi. Va benissimo. Va benissimo. Arata il calcio d'angolo. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Calcio d'angolo per gli avversari. Sofferenza pure in questo secondo tempo. Lo sapevamo e ce l'aspettavamo. Cross al centro. A vuoto. Urabbe. La prende. Pierre grandissimo. Dai Pierre. E' un'altra. Ma andata l'avanti. Andata l'avanti. No. Palla ancora gli avversari. Che sofferenza ragazzi. Si sente anche dalla voce. Devo concludere questa challenge road. Si soffre ragazzi. Andiamo a chiudere con la difesa sottomarina ad alta velocità. Misugi. Contrasto di squadra e Pierre con blocco da super riflessi. Difesa full power. C'è di tutto qui. Non passi. E già non passi Rival. Ok. Rival recupera la palla. Dai Rival. Devi tenerlo. In qualche modo passiamo la Ino. Che solo. Ecco Ino. Tiro. Facciamolo. Vabbè. Powershot attivo per loro. Facciamolo partire questo tiro con doppia rotazione del tornado. Dai. Vai verso la porta. Vai verso la porta. Deve passare questo secondo tempo ragazzi. Jito vola per aria. La palla si dirige verso Benji. Che probabilmente tirerà fuori un'ennesima tecnica miracolosa. Pugno S32. Del super portiere. E la para. Misuji. Vediamo che è finita. È finita ragazzi. Completata la challenge road. Benissimo. E vai ragazzi. Dopo 30 partite. Una più difficile dell'altra. Abbiamo completato questa challenge road. Adesso ve lo faccio vedere. 1-0. Partita tiratissima. Soffertissima. Ma che siamo riusciti a vincere. Questi sono i premi finali. La palla nera come primo finale. Va bene. Lo sapevamo già. Non è che sia un gran premio. Però meglio di niente c'è. Andiamo a vedere ragazzi la challenge road completata. Eccola qua. Ve la mostro. Scorro tutte le partite. Ragazzi. Ci siamo riusciti. Altra grande impresa. Challenge road in porto. Arrivederci ragazzi. E i prossimi video di Captain Tsubasa Dream Team. Ciao ragazzi.